Il partito abbastanza male, passato il dodicesimo al primo giro, perché l'esterno, quello davanti a me sono partiti male, mi sono provato a buttare all'interno ma non ce l'ho fatta. Subissimamente ho passato penso a Boussena, ero l'undicesimo, poi ero lì attaccato a Garbarino, Gandon e il numero... Guillaume, Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau, Guillaume Rousseau, e ho passato la safety car, che ero il gol del motore di Yannick Tank, ho anche riscatto di uscire. La ripartenza non è stata buonissima, ma neanche così male. Quasi mi è girata la prima curva subito alla ripartenza, quindi ero ottavo, ero vicino a Garbarino, quindi il podio degli junior. E purtroppo l'ultimo giro, la seconda è la mia entrata, quindi mi è partita la macchina e ho perso due posizioni e ho finito decimo. E' un peccato, forse non ho dato un po' di punto come velocità, essendo sempre scoperto qualcuno davanti, e domani partirei il nuovo decimo, ma dovrò in mente partirei il ottavo sette. E c'è del margine per far bene? Sì, quei Garbarino Gantone erano più lenti di me, ma era difficile di passare, perché la loro macchina era più veloce della mia rettilinea. Quindi per me era impossibile passare dalla curva 1, e il resto di stracciato è molto più facile.